All right, we haven't had to try, it's always a good time Oh, 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 it's always a bad time Ciao a tutti ragazzi, sono Blackshadow266 e ci troviamo in un nuovo episodio di Pokémon Verde Foglia Allora, io come Pokémon, c'è quello Pokémon nella mia squadra veri Cioè, come Pokémon nella mia squadra volevo, due Pokémon nella mia squadra, volevo Oddish Perché l'odizione finale con la piedra solata, che no, non mi ricordo come si chiama, e mi piace affare Però, Oddish non si troce, non c'è in Pokémon verrebbe forte Volevo pure attivare una mod per far comparire Oddish in questo gioco Però si blocca con questa mod, quindi non ne vale la pena Ora, battaglia e scienze, andiamo Ehm, io scusi, sì Giai, giai, anzi Decidiamo Il primo Il primo Ovvio Ok Bracire E' uno Bracire E' due Bracire e tre L'ultimo bracire E ciao ciao ti chiamo Che di merda Non ti voglio vedere più Non ce la faccio Vabbè no Ho aprito Perché se Io ho giocato a Pokémon Rosso fuoco E questa ce ne va Più giù che ne aprite Ok Mi ha dato Tocco 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 Brava Ah Ah C'è un po' di più E' 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 un po' di più Ok C'è un po' di più E' un po' di più E' un po' di più C'è un po' di più E vabbè, e vabbè Mettiamo un campo... Ok, ragazze Ho fallito pure Grazie Ma è una gioia Ok, perfetto, bravo e para Ah, no, ho sbagliato E vabbè, non ce la farà mai C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Aveva bruciato pure il tuo volume. Eh vabbè, come grazie? Ciao. Andiamo a curarci lì. Ok. Eh vabbè. Comunque questo praticamente ci aveva detto che abbiamo vinto la... Abbiamo sconfitto il T5. Il premio era che noi potevamo entrare nel T5. No, che noi abbiamo detto no. E qui c'è qui. Questo era. Thunder Shock. Attacco rapido. Un altro Thunder Shock. Attacco rapido. Thunder Shock. Attacco rapido. Andiamo tanti così. E Thunder Shock. Per finire con scintille. No no. Va bene più che c'è. Thunder Shock. Come ho usato? Eh vabbè. Vai cara. Grazie. Ah no. Coi giù. Su. Perchè talmente che è velocizzato non riesco a premere. Cioè. Avete capito eh. Andiamo a curarci i Pokémon. Perchè ci servono due Pokémon. Cioè. Dobbiamo catturare due nuovi Pokémon. Grazie. Andiamo con velocità. Uh. Più veloce di Sonic. Ah. Qua c'è una. Eh. Cosa era? Non ho visto. Vabbè. Dettagli. Andiamo a cercare due Pokémon che ci servono. Visto che Odyssey non c'è. Cioè. Prendiamo quello che ci sta. Ehm. Bene. Iniziamo la ricerca. Non è uscito al primo colto. Via. 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 Vabbè. Vi salto. Sto parte. Il primo è già uscito. Bellsprout femmina. Ok. Thunder Shock. Un'onda. D'acqua rapida. Non lo ho scioccato. Due. That's right. Un certo. Un altro scomento. Un altro scomento. Continuiamo. Un altro scomento. Un altro scomento. Ok. Ok. Usiamo la Pokémon solo. Usa. Catturare. Uh. Non avevo zappato. Via. Ok. Sì. Veramente lo volevo chiamare. Ma. Minuscolo. A. R. Sto scaricando il telefono nel frattempo. R. H. A. C'è lo so che mo' direte. Non si scrive così. Mo' vi spiego. La mia cantante preferita è Niki. Minace. Lei praticamente. Ha un sacco di altri rego. E uno si chiama Marta. Che Marta. Ehm. Marta si scrive con la H. Ok. Mo' cerchiamo il Pokémon che ci serve. Vi stoppo il video. C'è. Vi salto la parte. Ok. Ok. Ah. Già stava registrando. Ah vabbè. Comunque l'abbiamo trovato. Era Abra. Fa fa fa. Ah. Calmi. Io la provo random così. C'è. Con l'ignoranza. Cheater and Lates. E ovviamente. Si è liberato. E vabbè. Io vi salto la parte. Ah. Mi sono dimenticato di dirvi. Salto la parte. Quando vado a comprare. Altre Pokébulle. Vado. Catturare un altro Abra. Eccone un altro. Ehm. Diciamo Pikachu. Sono un coglione. Ah. Sì. Eccomi. Comunque prima avevo scordato di comprare le. Che coglione che sono. Avevo scordato di comprare le. Il Pokébulle. Vabbè. Fa niente. Proviamo nel. C'è. Allora. Possiamo fare solo questo. Perché. Sennò. C'è. Scappa subito. Ah. Ti prego. No. FAA. Perché. Non. Se ne cerchiamo qualcun altro. No. È così difficile. Catturare il nome. Cioè. Figuriamoci. Se devo catturare. I due leggendari. In questo gioco. Un giorno. C'è. Per favore. Io vi chiedo un'altra. Un'altra. Uno. Uno. Che cazzo. Ah. Non manco esce. Beh. Ve la salto proprio questa parte. Sinceramente. Ah. Ragazzi. Se ne è uscito un altro. C'è. Speriamo che lo catturiamo. Vi prego. Anzi. Velocizzo pure. Eh. Ti pareva. Se ti pareva. Eh vabbè. Musa altro. Ah. Che. Che disperativo. No. Però. Veramente. Non si può fare. Che. Che prego. Che scongiuro. Che pare. Che scarica. Ma. È la gioia. Veramente. Un'altra parte. Che vado a caricare il telefono. Circo un altro app. Eccolo. Ne ho trovato un altro. Ok. 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 Calma. Non posso neanche usare il tuo nonno per paralizzarlo perché. Cioè ho paura che poi se ne scappa. Cioè se ne scappa lo stesso. Ma pure se sarei io il primo ad attaccare. Cioè quindi non me la voglio rischiavo. Non riesco rischiarmela con la poker. Nooo. Perché? No. No. Perché? 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 Speriamo che ne trovi un altro per farlo. Perché? Perché? Speriamo che ne trovi un altro per farlo. Poi salto di nuovo la parte. Bene. Un altro. Ah. Mi prego. Per favore. Fatemelo a catturare. Mi prego. Mi scongiura. Mi scongiura. Per favore. Ti pareva. No. Ti pareva. No. Ti pareva. Ti pareva. Vaffanculo. No. Vaffanculo veramente. Saltiamo di nuovo. Raga. Eccone un altro. Allora. Allora. Non posso. Non posso. Perché vuole se ne scappa. Ce lo so che se ne scappa. Speriamo almeno che lo catturiamo di questo. No. No. Non è manco a finire la frase. No. Cioè ma vaffanculo. Vai. Vai. No. Non ti voglio vedere più. Ti vi odio. A tutti. Mi cercano. Bene un altro. Maravano. Vediamo. Mi dovrei. Madonna. Allora. Ve l'ho dimestrato. Pure se è paralizzato. Lo stesso esce E vabbè Da comprare Al 300 poche Sto fregando pure i soldi Per un labrass Per un labrass Stavo dicendo C'è parte i labrass Scusate Le compro 3, 4 Sì Ok vi salto di nuovo la parte Vabbè eccone un altro Mamma mia No per favore Per favore Ti prego Ti prego Ti supplico Ti supplico Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Sì L'ho catturato 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 O Ma Rome Figo come nome Ok Madonna, tre anni per catturare No, bra, basta E già so come chiamarlo Sto episodio Comunque andiamo a vedere I nostri bellissimi Pokémon nuovi Cioè, questo episodio Lo volevo chiamare Nuovi alleati Ma mo Cioè, mi è passato a giro Lo voglio chiamare Il titolo che ci affetta Sul non catturate In realtà l'ho catturato Però Che bello Che soddisfazione Ve lo giuro Al posto di questo Sto schifo Sto scherzando Mi piace un sacco All'evoluzione E questo Al posto di Ok Sono bellissimi Sono bellissimi Beh ragazzi L'episodio finisce qui Dopo 3000 anni L'avevo catturato Abra Il prossimo episodio Sconfiggiamo Misty Ok Ciao 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 Grazie a tutti.